Buonasera a tutti ragazzi, stavo dicendo questa qua ragazzi è la serata, la sera ragazzi ci caghiamo adosso parecchio, ve lo dico, non so cosa stiamo per andare incontro ragazzi, ve lo dico, non ho ne idea, ho un po' paura, molta paura, vabbè comunque non sono pronto, non sono pronto, non sono pronto, non sono pronto, non sono pronto ancora. Vabbè direi che il mio tragico destino è segnato, il mio destino è segnato, ci siamo, non lo so, non lo so Rick, non lo so mi sto già cagando adosso, noi vogliamo i comandi tradizionali, no no no, è vero, noi vogliamo i comandi tradizionali, no ragazzi non ce la faccio, prontissimo grande pro, no non muoio, non muoio, non muoio, non muoio, l'abbiettivo è colire ragazzi. Ma no, è tu, vai croca, iniziamo già eh, state calmi eh, vabbè direi una nuova storia, una nuova storia, ah iniziamo proprio così? L'obiettivo è battito d'ali di una farfalla oggi può provocare un devastante uragano a settimane di distanza, più piccola decisione può, ah ragazzi sì, in questo qua ogni decisione è fatale, cioè ogni decisione cambia, vedi le tue azioni, qua ce lo spiega, parlando dello sviluppo della storia, quindi ragazzi, se avete anche delle idee, noi sceglieremo le decisioni più coerenti possibili, mamma mia ragazzi non ce la faccio, ok sì, avremo, faremo proprio la nostra storia ovviamente, Finitazioni con attenzione, certo, certo, non è che sono nato ieri, basta che non mi fai cagare addosso, eh, Iniziamo male, eh? No ragazzi, no ragazzi, Sì, va bene, grandissimo, chi cazzo è, è venerdì 13, Oh mio Dio, non posso credere che tu l'abbia fatto davvero, non pensate che sia uno scherzo un po' crudele, andiamo, se lo merita, non è colpa sua se ha una cotta per Mark, Anna ha fatto la prima mossa con lui, mi prendo cura della mia amica Emma, solo perché è il capoclasse, non è che diventa l'uomo di tutti, ma è che il mio uomo, Ehm, io non sono l'uomo di nessuno, Come vuoi tu tesoro? Grande lo secco, benvenute, sì, è il mio gioco, questo lo secco, è il mio gioco, è il mio gioco, Porca miseria, Anna! No, regà, non lo so, non lo so, Eccolo, Mike! Sono Anna Ciao Anna Ciao Ciao Ma dai, ma non possiamo diventare le sue amici, No, cioè, avete capito Ma ha detto che saremmo stati soli questo weekend No, ragazzi, devo giocare io Vabbè, ragazzi, non lo so Che è questa nostra amica qua? Abbiamo iniziato efficientemente la serie, benvenuti a tutti, grazie per esserci, ci cagheremo addosso Vediamo Tutorial, tieni prenduto R2 per raccogliere il biglietto R2 Ah, vedi, bianchi e voltare, ragazzi, qua infartino is coming Ah, ho capito, mi scusi, eh Ah, ok Anna, sei davvero sexy con quella maglietta Ci dissociamo, signori di Twitch Nessuna donna è stata maltrattata Ma scommetto che lo sei più, di più senza Vieni nella stanza degli ospiti alle due Mike Porca miseria Ma non è un uomo Vabbè Con bella X Vabbè, andiamo a intervenire, anche se in teoria Mi piaceva farmi i cazzi miei, però Però, va bene C'è i nostri amici che dormono Porca miseria No, ragazzi Qua c'è il camminetto Non vedo niente Qua, 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 qua Usa la levetta a destra per guardarti intorno, ok Vedete che brillano possono essere ispezionati Beh, immaginavo Ma qua sono tutti morti o dormono? Spero che dormino Ho capito? Ho capito? Certo 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 Forse dovremmo solo iniziare, sai A baciarci E poi si vedrà Oh, sì, così Ci risociamo, eh Oddio Si sta togliendo la maglietta Cosa? Oh mio Dio Me? Sì, vabbè, ragazzi Che cosa ci fate qui? Anna Scusa Anna Non doveva finire Cos'è solo Uno stupido scherzo No Merda Siete davvero degli stronzi Lo sapete? Anna Cosa avete testo per scegliere? Cosa? Scegli Josh Trova gli altri Ragazzi, cosa facciamo? Io vado dagli altri Andiamo dagli altri Vado dagli altri Questa, ragazza, è la prima decisione che abbiamo preso Della serata Ma che diavolo? Sì, sì, no, no, no Mai star divisi negli horror, ragazzi Mai star divisi Anna Che succede? Dove va mia sorella? Ah, sta bene Non sa stare agli scherzi Era solo uno scherzo, Anna Cosa avete fatto? Stavamo solo scherzando, Beth Niente di serio Che coglioni Anna Anna No, ma cosa va da sola quella là, ragazzi? No Penso che tu sia l'ultima persona che vorrebbe vedere ora, Mike Per metà situazione corretto Prima che salta Ah, sì, ok Ok, prima che Ok Se no ci inciampiamo Inciampiamo praticamente Che cosa devo fare? Cauta No, ragazzi Cauti, secondo me Con calma Con calma Con calma Con calma Cauti Cauti Non voglio romperci delle gambe No, ragazzi Dai, bravo Cauta Cauta Non voglio romperci le gambe Con calma Segui rumore Segui le orme Forse è meglio il rumore, ragazzi Perché le orme c'è anche il tizio che ci vuole assassinare Adesso come è Vado Segui il rumore Io Non lo so Adesso come fai a capire la direzione giusta Vabbè, vedi le orme Seguiamo le orme No, no, dai Però le orme mi sembrano Boh, non so, ragazzi Segui l'ombra mi ispira di più Un po' all'assassin creed E seguiamo l'ombra Dai, no, le orme non mi fido Seguiamo l'ombra L'oscurità Seguiamo l'ombra No, ragazzi Usa il touchpad come mostrato Oh, che figata, ragazzi Sblocchiamo una bella storia su Instagram adesso Porca miseria Mamma mia, piccioni maledetti Usando la levetta a destra Ok Ok, ragazzi Comunque un inizio più accattivante di questo Non ci poteva essere Allora, fai vedere qua se c'è della roba Allora, vediamo Porca miseria Porca miseria Cerbiatti maledetti Ti è venuto alle 1 per camminare più velocemente Ma certo Subito Ho sbagliato Comunque ho aperto il menu Camminare più velocemente Figa C'è uguale Allora, ci saranno dei Dei cartelli Ecco Qua c'è della roba No, ragazzi Ma che è Ah, è una premonizione È una premonizione Quindi questa cosa qua La possiamo evitare Volendo Ok Interessante questa cosa Quindi possiamo evitare la morte di qualcuno Con una pietra trafitta Quindi sarebbe una cosa orribile Ci proviamo Ci proviamo, ragazzi Al massimo morirà Ok, ok Perfetto Ok Andiamo dritti Qua Qua c'è qualcosa Porca miseria Andiamo via da qua Anna Ciao Anna Bene Ma scusa Ma sta qua Ma Ok C'è della roba qua Con le fiamme Ragazzi Comunque la torcia La punta dove vuole lei Comunque Ok Anna Anna Oh mio Dio Starei congelando Ecco Prendi la mia giacca Sono una stupida Che scemo No ragazzi No ragazzi Vabbè Anna è finita Corre Forse Non lo so La premonizione Forse Andiamo Andiamo No 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 ragazzi Salve Buona anche a lei No ragazzi Mi lascio cadere Mi lascio cadere Non mi fido del signore La sopra Mi lascio cadere È morta la nostra amica No No Sono morte entrambe No Prima di iniziare Vorrei essere sicuro Che tu capisca Alcune cose Nessuno può cambiare Quello che è successo Il passato va oltre Il nostro controllo Devi accettarlo Per poter andare Avanti Ma questa rivelazione Racchiude la libertà Quello che fai Le decisioni che prenderai D'ora in avanti Apriranno le porte Per il futuro Voglio che lo ricordi Voglio che lo ricordi Mentre Giochi la tua partita Ogni singola scelta Influencerà il tuo destino E quello di chi ti circonda Stai calmo Ok Hai deciso di cominciare Questo gioco È importante E io voglio aiutarti A comprenderlo A volte A volte queste cose Possono fare paura O perfino terrore Ma io sono qui E farò in modo Che tu possa sempre Trovare un modo Per farcela A prescindere Da quanto siano penose Ok Inizieremo Con un semplice esercizio Potresti prendere la carta Ora osserva la figura Sull'altro lato E dimmi che cosa provi È essenziale Che tu risponda onestamente Per trarre il meglio Da questa esperienza Cioè Cosa fare? Ok Una fattoria Uno spaventapassare Del grano Probabilmente Va bene Ok Come ti ha fatto sentire Quella figura Onestamente Ma nessuna delle due In verità Mettiamo A disagio Ma buh Cioè Normale Certo Ma questo cos'è Un psicologo Ma non saprei Non saprei Niente Forse è qualcosa Che non puoi vedere Allora perché Ti mette Ansia Forse C'è qualcosa Nella casa? No ma è una fattoria C'erano le mucche Nella casa No Beh ragazzi Allora Se non è Nella casa Dove Credi Che si trovi Magari Nel campo Ma non lo so Non è lì Ma io sono tranquillissimo È una foto normale Questa minaccia È reale Oppure Fa parte Della tua Immaginazione Della mia immaginazione È immaginaria Sembra un pazzo Ragazzi Ve lo dico Ma non lo so È stato un piacere Comunque È stato un piacere La ringrazio Ecco Un inizio scoppiettante Ragazzi Mi spiace Di aver ucciso Le due ragazze Ma Pensavo che Vabbè Vabbè ragazzi È andata così Andata così Però comunque Un inizio così scoppiettante Ragazzi Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Comunque Comunque se i signori di anti-down Ci vogliono dare i soldi Noi siamo qua Bello strike di copyright Ragazzi Ci associamo nel dubbio Noi siamo qua Washington, le gemelle scomparse. Esattamente un anno fa le due Washington lasciarono la baita dei genitori e si avventurarono in una bufera di neve. Di delitto? Non ufficialmente no, c'è un individuo che consideriamo come persona di interesse ma al momento non sappiamo dove si trova. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington, li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio, potrebbe nascondersi lì? I miei uomini hanno espezionato la zona, ragazze non avrebbero mai potuto raggiungerlo. Qualcosa su quella montagna sembra attirare tragici eventi. Più di quanto immagini. Grazie per essere stata qui. La sera pagli Washington, Melinda e il figlio Josh, per l'anniversario della misteriosa scomparsa di Anna e Beth Washington. Salve amici e spettatori, aspetta la rifaccio. Ma è l'attore? Ok. Bene. Salve amici e spettatori. È davvero fantastico rivedervi tutti anche quest'anno. Non mi ricordo il nome però. Voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Sì. Sì. Felicissimi. Per cominciare vorrei parlarvi un attimo di una cosa che forse sapete già. So che siete tutti preoccupati per me e so che sarà difficile per tutti noi tornare qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Però voglio solo che sappiate... E sono pazzo comunque. Il fatto che siamo qui per me significa davvero molto. E io... Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme. Di sapere che le pensiamo. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai. Anche in ricordo delle mie sorelle. D'accordo? Ok. Perciò voglio che sia una festa davvero sprenata. Va bene? Questo viaggio non lo scorderemo facilmente. Ok? Sì. Sì. appunto. Mi viene da pensare. In un modo o nell'altro. Mi viene da pensare così è. Però non lo so. Comunque è anche quello che ha fatto la nota al museo. Tipo. È lui. È lui. Il faraone. Spamettino di faraone in chat. Ragazzi. Vabbè. Comunque... Mi sembra un titolo interessante questo. Un gran gioco mi sembra. La musica cattivante eh. Ragazzi tutti in vacanza qua eh. Anche voi veniteci. Il prossimo anno ci andiamo tutti eh. offro io. L'amicizia. Dieci ore all'alba. Noi siamo questa qua. Poverina cazzo. говорить. So. Quasi. 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 Quasi.